E' Antonio Miceli, il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica dei Bacini Integrali del Tirreno Cosentino, Valle e Lau, con sede a Scalea. 15 su 15 voti che hanno decretato la nuova deputazione amministrativa. Con Miceli all'unanimità sono stati eletti il vicepresidente Ciria Coverte e D'Angelo Antonio Componente. Nei prossimi giorni l'anonimina dei membri indicati dalla Regione Calabria e dalla provincia di Cosenza. Una rinnovata fiducia da parte dell'Assemblea, dei consorziati e degli eletti aventi diritto al voto dopo un periodo di incertezze e di problematiche, sia di amministrazione interna sia di gestione di un'area vasta che comprende ben 36 comuni estesi su una superficie di quasi 120.000 ettari e che ha visto il susseguirsi negli anni di diversi commissariamenti l'ultimo due anni fa. Un impegno preso esattamente un anno fa, quando fu nominato commissario della Valle e Lau, primo punto all'ordine del giorno era proprio il traghettare lente verso l'elezione. Noi abbiamo lavorato sin da subito, abbiamo indetto le elezioni, poi abbiamo fatto tutte le procedure, perché come voi sapete ci vogliono 7-8 mesi per le procedure, noi le abbiamo seguite tutte e parallelamente contestualmente a tutti gli altri problemi abbiamo affrontato questo e vedi oggi siamo qui e abbiamo eletto una nuova amministrazione, quindi questo significa che ci abbiamo creduto e abbiamo voluto dare un'amministrazione ordinaria perché come io ho sempre pensato diciamo un commissariamento meno dura e meglio è per tutti. Un impegno importante per un consorzio che durante gli anni ha sofferto la mancanza di una politica e di una gestione. È stata una bella soddisfazione che il gruppo è stato tutto unito e da portare avanti una buona amministrazione, quella che è mancata per parecchi anni. La prima cosa che dobbiamo partire sulla progettazione è dare un servizio dove ci sono tante richieste che non c'è stato un po' di abbandono. Ce la metteremo tutto per portare in contributo per il territorio che prima in persone che ci tengo molto all'agricoltura, io faccio l'agricoltura, al turismo, di migliorare tutto il territorio.